Consiglio la coppa del Beach Soccer a signor Leonardo Guarracino Grazie signor Guarracino, complimenti Grazie a te, tu hai cominciato? No, ma lei è stato il fenomeno della sera Ah, grazie Un commento su questa coppa, signor Guarracino L'emozione che ha vissuto È un flash e forte Pure io vorrei stupare Ci è mancato Luca Silvestri A queste cene non viene più Non c'è la nuova stagione di video di quest'anno Inizieremo da oggi, da stasera Siamo stati un po' assenti in rete ultimamente Cercheremo di rimediare almeno dal periodo natalizio Ricontenteremo Luca Silvestri da stasera se ricominci Luca Silvestri Mi sono quasi qualificato, quasi c'entro Saluto a Marcello Dio Grazie Ciao 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 Ciao